Salve, sono il dottor Nou Zardan. Lei, cara signora Patti, è una cicciona di ben 300 kg e deve assolutamente dimagrire e al più presto. Quindi zero carboidrati e propongo la mia solita ricetta. Acqua a colazione, acqua a pranzo, acqua a cena. E vedrà che dimagrirà. Però deve seguire scrupolosamente le mie indicazioni. Ma come ora? Ma come ora? Come si permette? Lei, dottor Nou Zardan. Ah no, Nou Zardan. No, 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 mi sono scocciata. Io non posso muovere troppo le labbra se no mi si rompe tutta la cucitura. Ma le gambe le muovo. E come se le muovo? Tampere un'anna. Trocchi che in montagna. Lunghe e vecchie passeggiate al parco. E mi tengo in forma ogni giorno. Approfitto per dare un bacione a tutti i miei fan che mi vogliono tanto bene. Un saluto dalla vostra parte. Naturalmente non voglio salutare quella specie di medico. Come si chiama? Ah, Nou Zardan. Che nome strano. Un nome da clown, da pagniaccio del circo. Lei, lei, lei ha osato attaccarmi. Ne pagherà le conseguenze. Sono stufo di ascoltare tutte queste cazzate. E pertanto cordialmente la mando a fan.